Istituto comprensivo Michelangelo Buonarroti di Ripa e Torrevecchia Teatina Scuola primaria di Ripa Teatina, classi quinta A e quinta B In un momento storico come quello che stiamo vivendo, le cui caratteristiche in tutti i campi stiamo approfondendo a scuola è più che mai necessario che ognuno dia il suo contributo per un futuro migliore Abbiamo scelto di discutere in merito al diritto all'istruzione perché secondo noi garantisce la possibilità di avere strumenti per pensare con la propria testa esprimere le proprie idee attraverso discussioni e prendere decisioni liberamente Democrazia è mettersi in discussione Riuniamoci in assemblea e diamo il via alla nostra discussione Sembra di essere in un Parlamento Il diritto all'istruzione è molto importante perché la scuola può cambiare il futuro dei bambini Politici e organizzazioni mondiali dovrebbero riunirsi per parlare di questo Sì ma assemblee e riunioni a livello mondiale hanno già affrontato più volte l'argomento Allora il problema qual è? Se ne dovrebbe parlare di più o si dovrebbe fare qualcosa di più concreto? Avanti con le proposte, facciamoci sentire Si dovrebbe garantire la costruzione di scuola anche nei paesi dove queste non ci sono oppure potremmo donare materiale scolastico Alcuni insegnanti potrebbero fare volontariato in questi paesi Ma tutto questo si fa già a donazioni, volontariato Ma se non sono sufficienti dovrebbero essere le persone più potenti e ricche ad investire maggiormente sul diritto all'istruzione L'Italia potrebbe accogliere i bambini meno fortunati per farli studiare qui Potremmo ma sono troppi, come facciamo? E se lo facessero gli Stati del mondo? Forse la cosa più giusta sarebbe adeguare le strutture dove ce ne bisogna E permettere a bambine e bambine di andare a scuola nel loro paese Da qualche parte ho letto che molti ragazzi abbandonano la scuola troppo presto Qualcuno rinuncia perché ha poco interesse per la scuola A qualcun altro invece mancano le possibilità economiche C'è una soluzione? Bisogna sensibilizzare tutti sull'utilità dell'istruzione Combattere l'ignoranza è l'unica chiave per aprire la porta alla vera libertà La discussione non è prevaricazione Né un'idea che trovi in posizione La discussione non è un volo di parole La discussione è partecipazione La discussione può trovare la soluzione La discussione è partecipazione